Una tragica malattia scoperta circa due mesi fa ha colpito Federica Pescio, una giovane novarese di soli 15 anni, portandola alla morte in seguito ad una complicanza inaspettata. Federica, studentessa presso il liceo Carlo Alberto e appassionata di teatro musicale nonché atleta della libertà, aveva appreso della sua afflizione da vasculite lo scorso ottobre. Dopo un periodo di ricovero a Milano era riuscita a tornare a casa e riprendere la sua vita quotidiana frequentando la scuola. Tuttavia poco prima del weekend si è verificata una complicanza che ha reso necessario un nuovo ricovero prima a Novara e successivamente a Torino. Federica è purtroppo deceduta presso l'ospedale Regina Margherita di Torino. Lascia nel dolore i genitori, la mamma Alessandra e il papà Michele. Il funerale è stato programmato per venerdì 22 dicembre alle 14 nella chiesa di San Martino a Novara.